il cimitero pieno d'ufficiali com'era aveva preso l'apparenza d'un campo fiorito i capi e i calzoni rossi i galloni e i bottoni dorati le sciabole e cordoni dello stato maggiore gli alamari dei cacciatori e degli ussari passavano tra le tombe e le croci bianche e nere che aprivano le loro braccia di ferro di marmo o di legno sul popolo scomparso dei defunti stavano seppellendo la moglie del colonnello delle musen morta per annegamento due giorni prima mentre faceva il bagno il rito era terminato i sacerdoti se ne erano andati ma il colonnello sorretto da due ufficiali era rimasto accanto alla fossa in fondo alla quale credeva di vedere ancora la bara di legno che racchiudeva il corpo già in decomposizione della sua giovane moglie era quasi vecchio alto e magro dai baffi bianchi aveva sposato tre anni prima la figlia del suo collega rimasta orfana dopo la morte del padre il colonnello sortis il capitano e il tenente a cui si appoggiava il loro superiore tentavano di condurlo via ma egli resisteva con gli occhi pieni di quelle latrime che per fierezza non lasciava scorrere e mormorava no ancora un altro po ostilandosi a rimanere lì con le gambe che quasi non lo reggevano sull'orlo di quella fossa che a lui pareva senza fondo come un abisso dove erano finiti il suo cuore la sua vita e tutto quanto gli rimaneva sulla terra a un certo momento il generale ormond si avvicinò al colonnello lo prese per un braccio e lo portò via quasi con la violenza mentre gli diceva su su camerata non devi rimanere qui allora il colonnello ubbidì e fece ritorno a casa nell'aprire la porta dello studio vide sulla scrivania una lettera la prese e poco mancò che venisse meno per lo stupore e l'emozione aveva riconosciuto la grafia di sua moglie la lettera era timbrata con la data di quello stesso giorno strappò la busta e la esse babbo permettetemi di chiamarvi ancora così come un tempo quando riconoscerete questa lettera io non sarò più sulla terra forse allora potrete perdonarmi non cerco né di commuovervi né di attenuare la mia colpa con tutta la sincerità di una donna che ha deciso di uccidersi entro un'ora voglio dirvi soltanto la verità quando mi avete sposata per generosità mi sono data a voi per riconoscenza e vi ho voluto bene con tutto il mio cuore di giovinetta vi ho amato come ho amato mio padre e forse non meno di lui un giorno mentre ero seduta sulle vostre ginocchia involontariamente avevo chiamato babbo era un grido del cuore qualcosa distintivo di spontaneo voi eravate per me un padre nient'altro che un padre allora mi avete riso e mi avete detto chiamatemi sempre così bambina mia mi fa piacere poi siamo venuti in questa città e perdonatemi babbo io mi sono innamorata ho resistito a lungo ho resistito quasi per due anni proprio due anni alla fine ho ceduto mi sono resa colpevole mi sono perduta e lui non indovinereste chi era di questo sono certa dato che mi sono stati vicino e mi hanno fatto compagnia 12 ufficiali quelli che voi chiamavate le mie 12 costellazioni non cercate di sapere chi è l'uomo con cui vi ho tradito e non odiatelo lui ha fatto solo quello che al suo posto chiunque altro avrebbe fatto sono anche certa che mi amava che mi amava con tutto il cuore ascoltatemi un giorno avevamo un appuntamento all'isola de becassé quella piccola isola vicino al murino io dovevo arrivarvi al muoto lui mi avrebbe attesa tra i cespugli e sarebbe rimasto lì sino a sera in modo da non essere notato al ritorno lo avevo raggiunto da poco quando i rami si aprirono e vedemmo filippe il vostro attendente che ci aveva sorpresi compresi che eravamo perduti e mi lasciai sfuggire un grido ma il mio amico mi disse di tornare a nuoto con calma e di lasciarlo solo con quell'uomo andai via così emozionata che corsi il rischio di annegare e tornai a casa attendendo qualcosa di terribile un'ora dopo filippe mi diceva a voce bassa nel corridoio del salotto dove lo avevamo incontrato sono gli ordini della signora se ha qualche lettera da consegnarmi capii che si era venduto e che il mio amico aveva comperato il suo silenzio e così cominciai ad affidargli le mie lettere tutte le mie lettere lui le recapitava e mi portava la risposta la cosa è durata due mesi ci fidavamo di lui come ve ne fidavate voi poi babbo ecco cos'è successo un giorno sulla stessa isoletta dove ero solita andare a nuoto ho incontrato lì di nuovo l'attendente ma stavolta ero sola oh babbo babbo mio ho avuto paura una paura indegna vile paura di voi soprattutto di voi così buono e ingannato da me paura per lui l'avreste ucciso forse anche paura per me non lo so ero pazza fuori di me ho creduto di dover comprare ancora una volta quel miserabile che mamava anche lui che vergogna siamo così fragili noi donne perdiamo la testa più facilmente di voi e poi chi è caduto una volta continua ancora a cadere sempre più in basso non so come ho potuto farlo so soltanto che uno di voi due e io eravamo in punto di morte e io mi sono data quel brutto come vedete non cerco di scusarmi allora allora è accaduto quel che dovevo prevedere mi ha presa e mi ha ripresa ogni volta che ha voluto terrorizzandomi è stato anche lui il mio amante come l'altro tutti i giorni lo so è abominevole e quale castigo per me alla fine ho capito che mi restava solo la morte da viva non avrei potuto confessarvi un simile delitto oso tutto da morta non potevo far altro che morire nulla mi avrebbe potuto salvare da tante bruttura non ero più degna di amare mi sembrava di insozzare tutti coloro a cui davo la mano tra poco andrò a fare il bagno e non ritornerò questa lettera per voi sarà portata a casa dal mio amante la riceverà dopo la mia morte e senza comprendere nulla ve la farà recapitare adempiendo a un mio estremo desiderio voi la leggerete tornando dal cimitero addio non ho altro da dire fate ciò che volete e perdonatemi il colonnello si asciugò la fronte bagnata di sudore era tornato improvvisamente il suo sangue freddo quello che aveva nei giorni delle battaglie suonò comparve un domestico ordinò fate venire qui filippe poi socchiuse il cassetto della scrivania uomo entrò quasi subito un soldato alto coi baffi rossizzi lo sguardo sormione e un'aria scaltra il colonnello gli pianta gli occhi in faccia tu devi dirmi il nome dell'amante di mia moglie ma signor colonnello l'ufficiale prese il revolver dal cassetto socchiuso dimmelo e subito sai che non scherzo ebbene signor colonnello il capitano sent albert aveva appena finito di pronunciare quel nome una fiammata gli bruciò gli occhi ed egli cadde in avanti con una pallottola in mezzo alla fronte